Endless Love Anticipazioni, quello che scoprirai nelle prossime puntate, ti lascerà senza parole. Nella puntata di mercoledì, Asu supplica Tufan di non dire nulla a Emir, anche perché teme che indagando si possa scoprire che ha fatto manomettere l'auto di Nian. Nian supera l'intervento e viene portata in terapia intensiva. Kemal tenta inutilmente di andare da lei e dopo due giorni di attesa vana decide di escogitare un piano con l'aiuto di Zahir. Nel frattempo, Nian è stata spostata in reparto e Vildan accetta di aiutare Kemal a raggiungere il suo obiettivo. L'episodio si apre con un flashback di sette anni prima. Kemal e Nian sono molto affiatati e guardano attraverso un kaleidoscopio. Oggi, grazie alla complicità di Zahir, Yasemin e Vildan, Kemal riesce a intrufolarsi in ospedale spacciandosi per un operatore sanitario e a entrare nella stanza di Nian, che finalmente apre gli occhi. Prima di continuare se vorresti ricevere in anteprima le nuove anticipazioni di Endless Love, scrivi sì nei commenti. Riprendiamo. La donna, con un filo di voce, accusa Kemal di averle portato via sua figlia e G.L. chiede di andarsene via. Emir nutre il sospetto che Kemal possa aver letto il diario scritto da Nian e dopo averlo trovato, lo getta. Inoltre, scopre che Asu gli ha mentito. La sera prima dell'incidente, Kemal non era a casa con lei. Perciò va dalla sorella e la minaccia. In quel momento, arriva Kemal e tenta di uccidere Emir soffocandolo, ma Asu lo convince a non farlo. Emir, per punizione, vieta alla sorella di vedere la madre. Nel frattempo, Leila riceve la visita dell'avvocato Dey Kotskoglu. Emir lascia che Kemal raggiunga la stanza di Nian e, grazie all'orsetto con telecamera piazzato nella stanza della donna, ascolta la conversazione tra i due. Kemal e Nian parlano della loro figlia e del fatto che Kemal, anche se con tanta sofferenza, è disposto a far finta di non sapere la verità per evitare momentaneamente ripercussioni da parte di Emir. Ma in realtà, Emir sa già tutto. Alcuni giorni prima dell'incidente, Kemal e Nian, ancora in cerca del diario di Deniz, si incontrano ed Emir è lì a spiarli. I due si interrogano sul fatto che Emir possa sapere di loro e decidono di indagare. La risposta arriva da Mushgan, che con voce flebile riesce a dire a Nian che il figlio sa tutto. Leila decide di lasciare la casa a Emir e di tenere le azioni per sostenere Kemal all'interno dell'azienda. A Khan fa partire il fratello, Safak, promettendogli che risolverà la situazione e presto lo farà tornare a casa. Kemal ha sempre più sete di vendetta nei confronti di Emir e cerca in ogni modo di distruggerlo. Leila decide di cedere la sua casa a Emir con sua grande sorpresa. A seguito di questa vendita, Nian chiederà a Leila di trasferirsi a vivere a casa sua insieme a Emir. Lui accetterà. Zainab trova lavoro in una caffetteria e Hakan le chiederà se, nel frattempo, vuole andare a vivere a casa sua dato che suo fratello è partito e la sua stanza è disponibile. Inizialmente Zainab rifiuta, ma quando scopre che lui è in possesso del bottone rinvenuto nella stanza di ospedale dove è stato ucciso Ozan, decide di accettare. Efsan e continua a fare la spia per Emir e a segnalare ogni movimento o dialogo sospetto avvenuto all'interno della casa. Eda la scopre e dice tutto a Nian. Ormai certi di essere spiati, Nian e Kemal si incontrano e lui le passa un telefono USA e getta in modo tale da poter comunicare in sicurezza, lei rivela a Kemal che Emir ha minacciato Deniz. Asu fa credere a Tariq che lei può aiutarlo a sbarazzarsi di Emir. Ma naturalmente è tutto un piano architettato insieme al fratello per tenere ancora in pugno Tariq, in quanto può tornare sempre utile nella lotta che i due conducono contro Kemal. Nel frattempo si svolge il consiglio di amministrazione della Kodskoglu Holding per eleggere il nuovo presidente. Emir pensa di avere i voti necessari, ma Kemal dimostra che ha trasferito denaro dell'azienda all'estero, pertanto non viene eletto. Al suo posto, Kemal fa eleggere Irfan Aktanmaz, un uomo di sua fiducia. Se vorresti il continuo della storia, scrivi Sì nei commenti.